Sanno cantare Sanno suonare E vogliono raggiungere il successo Ma la strada è lunga e passa per Capitalent, il contro-talent di Radio Capital Vai su Capital.it Vota e scegli tu i quattro finalisti Che suoneranno dal vivo al Music Italy Show di Bologna Il contro-talent di Radio Capital è Capitalent Capitalent Se puoi sognarlo, puoi suonarlo